Ciao a tutti e benvenuti! Oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per i abbonati a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate di dicembre 2021. Questo mese avremo quattro giochi, due titoli Xbox One e due di Xbox 360, tutti compatibili con le attuali console Xbox, ma iniziamo subito. Dal primo dicembre arriverà Escapist 2, vivremo nei panni di un detenuto con questo simulatore di evasione. Dovremmo cercare di elaborare e mettere in atto vari piani per evadere dai centri di detenzione più duri al mondo, il tutto accompagnato da una gradevole grafica in pixel art. È possibile anche giocare insieme ad un massimo di tre amici, sia locale che online, per escogitare nuovi piani di fuga o per sfidarsi in una modalità competitiva. Secondo titolo disponibile, sempre dal primo dicembre, però solo fino al 15, è Orc Must Die, Tower Defense che ci mette nei panni di un mago guerriero che sfruttando tante armi, incandesimi e trappole dovrà uccidere più orchi possibili per sventare i loro attacchi. Terzo gioco disponibile dal 16 dicembre fino al 31 dicembre è Insanely Twisted Shadow Planet, Action Adventure 2D, dove controlleremo un disco volante, esplorando ambienti dallo stile particolare, risolvendo diversi enigmi e combattendo contro e bizzarre creature nel tentativo di raggiungere il centro del misterioso pianeta ombra. Infine, dal 16 dicembre al 15 gennaio, abbiamo Tropico 5, quinto episodio del celebre gestionale Simulatore di Dittatore. Dovremmo guidare un regno dal primo periodo coloniale, fino al XXI secolo e oltre, passando quindi per le due guerre mondiali, la Grande Depressione e la Guerra Fredda. Il tutto affrontano una nuova serie di sfide, padroneggiando avanzate dinamiche commerciali, mettendo a punto nuove tecnologie ed esplorando il vasto mondo di gioco, giocabile anche in multigiocatore sia competitivo che cooperativo. Cosa ne pensate di questi giochi gratuiti per il mese di dicembre 2021? Siete soddisfatti oppure no? Fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like, a condividere e ovviamente iscrivervi al canale. Alla prossima! Ciao!